Mi chiamo Stefano Bassanese, la partita di ieri abbiamo perso contro l'MT, una squadra abbastanza forte. Abbiamo giocato abbastanza bene, soprattutto in difesa, ci è mancato solo l'ultima spinta per portare a casa la partita. Mi piace giocare in questo progetto perché mi aiuta a crescere, soprattutto sotto l'aspetto tecnico. I allenatori aiutano molto i ragazzi, ti aiutano a crescere e ci divertiamo molto.